I grandi gruppi europei delle telecomunicazioni stanno studiando la possibilità di creare una rete pan-europea in modo da unire i mercati nazionali del continente, seguendo così l'impulso arrivato da Bruxelles a considerare opzioni radicali. Lo scrive il Financial Times, sottolineando che l'idea è emersa in un incontro riservato tra il commissario alla concorrenza, Almunia, e i manager dei maggiori gruppi di telecomunicazioni, tra cui Daesh Telecom, France Telecom, Telecom Italia e Telefonica. Per il quotidiano finanziario, una rete unificata avvicinerebbe il mercato europeo a quello americano o a quello cinese.